E' stato fermato lungo l'autosole, trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina purissima, in manette nella retina un trentenne fermato dalle pattuglie della polizia stradale della sottosezione di Battifolle. Gli agenti, mentre stavano soccorrendo un'automobilista rimasto in panne, hanno visto transitare un'utilitaria con targa italiana. Un'auto sospetta, secondo la polizia, e così è stata fermata per un controllo. Alla guida c'era un trentenne, origini straniere, residente a Parma, che non ha saputo dare una motivazione convincente sul viaggio verso sud. E' quindi scattata una perquisizione dell'auto che ha permesso di recuperare, occultato dentro il cassetto portaoggetti, un panetto di cellophane con impressa la sigla F1. Le analisi hanno consentito di stabilire che si trattava di cocaina purissima, che una volta tagliata e messa sul mercato avrebbe fruttato circa 80.000 euro. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti della squadra mobile di Parma hanno recuperato altri 3,5 kg di cocaina nella disponibilità della compagna del trentenne. Anche lei è stata arrestata.